Imitate Maria. 25 aprile 1972. Sia pace a voi, figli. Sono il vostro Gesù di misericordia e di amore infinito. Sono qui a disporre i vostri cuori alla celebrazione del mese di maggio, che i vostri antenati hanno voluto consacrare alla mia Vergine Madre. Tutti i mesi dell'anno sono belli. Sono un dono di Dio ed ogni mese come ogni stagione porta con sé le sue prerogative, i suoi doni e le sue meraviglie. Per cui potete e dovete dire sempre. Sia lodato il Signore che ha creato il cielo e la terra e tutto ciò che in essi è contenuto. Ma quando si parla di maggio i cuori dei buoni hanno come un sussulto e un rinnovarsi di santi pensieri e desideri. È come un rifiorire di vita nell'ordine naturale e spirituale. È un guardare in alto in cerca della stella che vi deve indicare il cammino. Io desidero che questo risveglio religioso in nome e per amore della mia mamma, sia portato in ogni città, in ogni paese, in ogni parrocchia, in ogni famiglia, fino agli estremi limiti della terra. Figli miei, non è una figura qualsiasi di santa che vi presento, ma è la piena di grazia. È l'oggetto delle compiacenze da parte della Santissima Trinità che vi ha dito. Quando nelle notti stellate voi guardate il firmamento, vi rallegrate e gioite di quello spettacolo così maestoso e irraggiungibile. Ma quando vi ha dito Maria, anche se scoprite in lei la luce delle stelle, le meraviglie di un cielo stellato, vi posso dire. Guardate la stella. Imitate Maria. Quando in un giardino fiorito guardate, osservate e vi inebriate del profumo dei fiori e rimanete rapiti dalla bellezza della rosa e del giglio. E vi sentite conquisi dalla piccolezza e dal profumo della viola e respirate a pieni polmoni come per meglio assaporare quei profumi. Io vi propongo il fiore più bello. Che il profumo delle virtù rende tanto attraente da deliziare il cuore di Dio e vi dico. Accostatevi a lei. Respirate Maria perché venga in voi l'ossigeno di una vita cristiana vera. Quando il sorriso dei bimbi o la bontà di un cuore di mamma vi attirano e vi invitano ad essere più dolci e più buoni. Pensate a Maria. Il cui sorriso basta rallegrare tutto il paradiso. Accostatevi a lei e pregatela che un raggio della sua bontà penetri in voi. Così da rendervi simili a lei. Quando, in montagna, scorgete le cime coperte da candide nevi o le distese di ghiaccio. Pensate a lei il cui candore fu ed è il vanto. Il desiderio e la conquista del cuore. E invitatela a ricoprire del suo candore tutta la gioventù del mondo che, sedotta e attratta dal fango, vi si rotola, pensando di trovare in esso la felicità. Mettersi al servizio di Maria è dirigere la propria vita verso il cielo. È riempirsi dei profumi più pregiati di virtù scelte. È circondarsi di candore. È raggiungerla nella gloria. Vorrei ripetervi parole infuocate, che ai Santi feci intendere, per spronarvi ad amarla, ad onorarla, ad imitarla. Vorrei a ciascuno di voi dare il mio cuore, perché la conosceste sempre meglio, e sempre più profondamente la faceste conoscere ed amare. Io, figlio del Dio vivente. Non volli fare a meno di lei e volli il suo cuore per appoggiarvi il mio capo. Volli le sue braccia perché mi accogliessero quando, stanco della cattiveria degli uomini, cercavo rifugio e conforto. Cercai le sue mani perché mi benedicessero e mi accarezzassero quando dovevo partire per i lunghi viaggi di apostolato. Cercavo il suo sorriso. La sua voce. Le sue lacrime. Il suo lavoro. Le sue parole. I suoi canti. Le sue preghiere. Il pane saporito che preparava. Gli indumenti lindi e puliti che mi porgeva. E in tutto e sempre scorgevo la perfezione del suo comportamento che mi parlava di cielo e di grazia. Ecco. Figli. In questo breve tratto esposto il quadro della vita di mia mamma. Santificata dalla nascita alla morte da una corrispondenza perfetta alla volontà di Dio e alla grazia ricevuta. Ma a voi pure, figli, furono dati doni in abbondanza. Che vi resta da fare se non corrispondere ai divini favori come lei? Una vita umana è come lo sbocciar di un fiore. Fate che il sole della grazia sempre illumini. Riscaldi e fecondi questo fiore che è la vostra vita. Fate che non manchi mai la rugiada della preghiera e la pioggerella del dolore per renderlo sempre fresco e vivo. Fate che il profumo e la freschezza del vostro fiore siano sempre custoditi dalla siepe della mortificazione. E concimate la pianta con la penitenza. Troppo si pensa che tutto sia un di più e che la penitenza sia riservata ad altri tempi. L'esempio della mia mamma, che nelle molte apparizioni continuamente parla e parlò di penitenza. Perché della penitenza? E quale penitenza? Aveva fatta la più grande esperienza. Sia d'incitamento a tutti voi e a molti altri a praticarla. Si ama circondare gli altari della mia mamma coi fiori più delicati. E fate bene, poiché la sua amabilità li merita e la sua finezza li desidera. Ma quanto più desidera essere circondata. E gustarne il profumo. Da quei deliziosi fioretti che parlano d'amore e che le toccano il cuore. Coraggio dunque, figli. Tutti uniti col vostro Gesù, come fratello maggiore, intraprendiamo la meravigliosa gara d'amore, attorno a questa nostra madre impareggiabile. Lode e onore a lei. Madre di Dio. Madre vostra. Regina di tutti i santi e della Chiesa. A lei porta del cielo. Candido giglio della Santissima Trinità. Rosa splendente del Paradiso. Sia gloria e onore da tutti i popoli e per tutti i secoli. Figli miei. Vi benedico e sono con voi. Arrivederci accanto a Maria.